Cresce la voglia di centrodestra in tutto il paese e crescono i consensi per la Lega. L'elezione di Vito Bardi, candidato governatore del centrodestra in Basilicata nella riprova. A sottolinearlo il commissario della Lega Pescara, Gianfranco Giuliante, che ribadisce la volontà di Salvini di candidare un proprio esponente alle prossime comunali nel capoluogo adriatico. Si era paventata, prospettata l'ipotesi anche delle primarie nel centrodestra. È una strada percorribile? Non è una strada percorribile, non lo è perché il sistema intermedio ipotizzato da Forza Italia, che era quello dei sondaggi, è imploso prima di iniziare. Rispetto ai nomi che circolavano già ci sono state due o tre defezioni con uscite importanti. A maggior ragione, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, ipotizzare le primarie sarebbe evidentemente un errore macroscopico. In altre realtà, dove questo è stato fatto, ed è stato fatto a ridosso delle elezioni, poi si sono consumate vendette che non hanno portato bene ai partiti e alle coalizioni che hanno scelto questo metodo. L'ingresso di Marcello Antonelli, ex capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara, ed ora in quota la Lega, conferma il buon lavoro svolto dal partito di Salvini, affermato ancora Giuliante, il quale ha aggiunto C'è stato l'ingresso recentissimo di Marcello Antonelli, che è sicuramente una persona di esperienza, che ha rivestito ruoli sia di governo a Pescara, che di opposizione quando a governare era il centro sinistra. È uno che sicuramente può dare un valore aggiunto alla presenza della Lega. Per quello che riguarda i nomi che stanno circolando, è la dimostrazione plastica che la Lega ha la possibilità di mettere in campo personalità importanti, che naturalmente diventeranno oggetto di confronto nel momento in cui si definirà a quale partito compete indicare il candidato sindaco.